... Eccoci qui pronti per vivere insieme a voi questo ultimo weekend di luglio e anche questo mese sta volando via e comunque a noi ha fatto piacere trascorrerlo e continueremo a trascorrere insieme a voi che avete ancora una volta scelto 105 TV e in particolare il TG Estate. Torniamo sulla spiaggia per parlarvi di una iniziativa che è partita nella Golfo di Policastro sono iniziati una serie o comunque c'è la volontà di organizzare su questo territorio dei tornei di calcio balilla il debutto proprio oggi pomeriggio 27 luglio presso un accogliente Lido di Sapri l'americano Beach un saluto a Dario che spero ci stia seguendo che è il titolare ma anche a tutta la famiglia di Dario simpaticissima e potete godere della simpatia di questa famiglia proprio presso questo Lido che si trova sulla Statale 18 a Sapri. Allora dicevamo primo appuntamento presso l'americano Beach c'è la voglia della Federazione Italiana Calcio Balilla di avviare questo percorso sul territorio del Golfo di Policastro come mai? Ne parliamo insieme ad uno dei responsabili della Federazione Sigismondo di Agresti Sì diciamo questa iniziativa è nata dalla voglia mia di un amico Cristian che siamo già da tanti anni sulla scena del calcio balilla a livello sia nazionale che regionale grazie all'ASD Salerno Calcio Balilla di Sirica Francesco ci ha dato questa grandissima opportunità e stiamo cercando infatti di organizzare degli eventi e delle manifestazioni fino per tutto il mese di agosto diciamo nei principali Lido e nelle piazze diciamo del Golfo di Policastro e il Lido americano Beach quindi Dario De Luca ci ha dato anche lui questa opportunità e un caloroso diciamo saluto va anche al bar Ushale di Latronico che come sponsor anche lui ci ha dato l'opportunità di organizzare questa manifestazione Ecco dobbiamo dire che stanno scorrendo le immagini del Lido dove tra pochissimo avrà inizio il torneo quindi sono stati ovviamente trasportati proprio presso il Lido dei come si chiama dei tavoli di calcio balilla per giocarci quanti sono perché sono particolari i tavoli federali? In realtà sono dei tavoli particolari perché diciamo sono stati omologati dalla Federazione Italiana Calcio Balilla proprio per svolgere delle manifestazioni nazionali e internazionali per questo sport che sarà presentato anche ai mondiali del 2015 ed è in forte espansione ecco perché ci stiamo diciamo gestendo questa iniziativa sperando che il Golfo di Policastro reagisce in maniera positiva a questo evento Oggi al torneo quante squadre ci sono? Speriamo che superiamo le 40 coppie sono venuti ragazzi da Avellino, da Nocera, da Salerno, dal paese di Latronico dalla vicina Lago Negro, da Palinuro quindi da tutto il Golfo di Policastro speriamo che questa manifestazione ne seguano altre ma sicuramente perché il 4 già ne abbiamo un altro in programma per poi proseguire tutta l'estate insomma sul Golfo di Policastro Io personalmente non immaginavo che addirittura ci fosse una federazione per il calcio balilla insomma questo calcio in tutte le formule, in tutte le salse piace? Sì diciamo la federazione già esiste da diversi anni ed è presente sul territorio regionale ma soprattutto sul territorio nazionale che organizza tappi in tutta Italia a livello anche internazionale infatti hanno presentato una squadra all'internazionale Annante che si sono tenuti quest'anno in più fanno pruna nazionale italiana di calcio balilla ecco perché l'omologazione dei tavoli perché giochiamo tutti su questi tavoli federali che hanno delle particolarità con i manubri, con gli omini proprio il tavolo è fatto in maniera diversa rispetto ai tradizionali calcio balilla Noi li stiamo vedendo appunto nelle immagini che scorrono e chiaramente sono i tavoli che sono stati installati presso l'Americano Beach prossime tappe? Prossime tappe di nuovo il 4 di agosto presso il Lido Americano Beach poi sicuramente ci sposteremo nella zona di Palinuro, poi nella zona sicuramente anche di Lago Negro il Vallo di Diano per poi proseguire quest'inverno anche nei centri commerciali con il giusto augurio che questa attività vada avanti e venga promossa nel migliore dei modi Gli appassionati di calcio balilla come punto di riferimento quale possono prendere? C'è un sito o un ricambio telefonico? Allora c'è prima di tutto l'ASD Salerno Calcio Balilla di Sirica Francesco che si occupa proprio del sud calcio balilla Salerno poi c'è un sito federale della FICB www.ficb.it e i delegati di zona dell'ASD Salerno Calcio Balilla nella persona di Christian Sigismondo di Agresti Bene, allora mi pare che abbiamo detto proprio tutto però se avete voglia anche di assistere ad un torneo di calcio balilla oggi pomeriggio sabato 27 luglio potrete recarvi presso l'Americano Beach a che ora inizia? Dalle 17 fino diciamo alle 22, alle 23 sul Lido Americano Beach Devono sapere che domenica 28 luglio si terrà a Scario la gara di pesca sportiva intitolata Battiti di Pesca per qualsiasi informazione telefonare al 328 63 31 964 e abbiamo qui una delegazione degli organizzatori iniziamo con il presidente della locale Lega Navale Vito D'Andrea come mai questa gara? Dobbiamo correggere subito, non sono il presidente, il vicepresidente Vicepresidente, sì L'amico Antonio ha voluto organizzare questa manifestazione noi che organizziamo eventi culturali e sportivi abbiamo dato una mano ad Antonio ad organizzare questo evento che spiegherà a lui il funzionamento Ecco, la Lega Navale è protagonista in questo mese di luglio di un tour particolare, vogliamo dire in poche parole Il nostro presidente, il generale Antonio Gagliardo ha iniziato il primo luglio il Giro d'Italia a vela cioè lui ha girato partendo da Scario e girando per tutta la Sicilia, la Sardegna, la Corsica poi in Liguria sta arrivando, giovedì arriverà a Scario Ma continuiamo a dare informazioni invece per quanto riguarda questa competizione che esiterà il 28 luglio ne parliamo con Antonio Scarfone che è uno dei componenti della Lega un socio della Lega Navale di Scario Chi ha voglia di partecipare cosa deve fare? Il problema di partecipare deve semplicemente scriversi le iscrizioni si chiudono alle 2.25 del 28 luglio presso il Porto di Scario, presso la sezione della Lega Navale di Scario tutti i partecipanti li accoglieremo facendo il raduno alle 3 il sorteggio delle postazioni pesca e poi dalle 4 alle 8.15 ci sarà l'azione di pesca vera e propria che verrà svolta all'esterno del mulo di soprafflutto del Porto di Scario successivamente alle 8.15 procederemo con la pesatura del pescato e trasferiremo tutti i pescatori in piazza Sant'Anna a Scario e noi stileremo le classifiche ufficiali secondo il regolamento FIPSAS quindi rispettando le specie ittiche secondo normativa vigente e poi dedicheremo prima della premiazione un importante ricordo di Giovanni Tancredi a cui abbiamo dedicato la giornata uno dei più grandi pescatori di Scario purtroppo scomparso da poco e seguirà la consegna di una pergamena ai nipoti di Giovanni Tancredi voglio ringraziare la Lega Navale nella persona del Presidente il Generale Antonio Gagliardo e del Consiglio Direttiva e soprattutto il Comune di San Giovanni Appiro per averci dato il patrocinio morale all'iniziativa il Vice Sindaco donerà la pergamena a Marianna Tancredi in quell'occasione e dopo ci sarà un momento storico abbiamo invitato il Professore Guzzo, storico di Scario perché abbiamo trovato, grazie ad una persona che vuole rimanere anonima un estratto della richiesta datata a 1854 con cui Gaetano Bellotti facendo parte del Consiglio del Principato di Citra chiedeva al re l'edificazione del faro di Scario faro di Scario simbolo di Scario e quindi importante e fanale per garantire la navigazione sotto costa non solo ai pescatori ma anche alle flotte che attraversavano in modo pacifico la costa e quindi ci sarà una cornice abbiamo riproposto su carta cotone e incorniciato l'estratto e lo doneremo alla Capitoline di Porto, al Comune e alla Lega Navale quindi siete tutti invitati ad assistere sia a battiti di pesca sia ai momenti culturali questi momenti culturali quando inizieranno e dove? allora inizieranno a partire dalle 9.10 in piazza dell'Immacolata a Scario ci sarà il ricordo di Gianni Tancredi la consegna delle pergamene per quanto riguarda l'estratto del faro di Scario e poi la premiazione finale di tutti gli iscritti a battiti di pesca dall'ultimo classificato fino al primo classificato e ci sarà una delegazione dei pescatori di Scario che presideranno alla premiazione bene, complimenti poi ovviamente chi è esperto di pesca sa che ci sono diverse tecniche di pesca aggiungiamo dopo magari qualcosa relativo noi abbiamo qui una persona che ci spiega un po' queste canne come si chiamano, come funzionano, quali sono le differenze uno dall'altro siamo con Piero Palumbo andiamola in mano le tre tecniche di pesca messe in gara sono le più conosciute anche le più usate a livello nazionale e locale si comincia con la canna fissa penso che ognuno che abbia mai pescato nella sua vita ha preso in mano una canna del genere si dice fissa perché si denota la mancanza di un mulinello una cosa molto semplice con questa canna si pesca a una distanza molto limitata limitata dalla lunghezza stessa della canna è una tecnica molto semplice però nello stesso tempo viene definita l'università della pesca perché i veri pescatori pescano con questa perché? perché è molto difficile nella sua semplicità è una delle tecniche più difficili in assoluto bene perché poi la seconda tecnica è la bolognese che è una naturale evoluzione della canna fissa sostanzialmente è una canna fissa che presenta l'aggiunta di un mulinello e degli anelli di scorrifilo la montatura, la lenza è la stessa la differenza sta solo in una maggiore gittata e nella possibilità di combattere i predi di taglia medio grande grazie all'ausilio del mulinello cioè fondamentalmente è la stessa identica cosa quello che è regolato da questo mulinello è un mulinello che permette di combattere delle prede infatti è munito di una frizione che contrasta eventari sfuriate oppure opposizioni di forza da parte della preda queste giornate, queste gare abbiamo detto avete già scelto un specchio d'acqua quello là a distante il porto l'esterno molo di soprafflutto del porto di Scario allora come è andato il vicepresidente sotto il sole era preoccupato ma facciamola all'ombra ma non andiamo in rima ma facciamola no no anche perché sono in Pantalone Lughe non penso che uno dei mari della rega navale in Pantalone Lughe potevo venire con la barca e la traccavamo qua venivamo anche noi la prossima volta la prossima volta